Eccoci qua, iniziamo il nostro percorso e parliamo di un circuito dove andiamo a coinvolgere gruppi muscolari piccoli e grandi. Questa è la leccar, seduto, ci posizioniamo e iniziamo l'esercizio. Andiamo a lavorare il flessore. Passiamo ora alla multi-heap dove andiamo a lavorare l'aduttore. Posizioniamo sempre la macchina e iniziamo l'esercizio. Vertical Threshold, dorsale. Shoulder Press, deltoide. Legge Station, lavoriamo i quattro cipiti, posizioniamo la macchina. Army Station, lavoriamo il tricipite. Adesso lavoriamo sulla upper back, lavoriamo il deltoide posteriore. Chest Press, lavoriamo il pettorale. Adesso lavoriamo gli addominali con la macchina abdominal crunch. Qui lavoriamo il gluteo, sulla macchina glute, lavorando sia sul lato destro che sul lato sinistro. Vediamo alcuni esempi di attività aerobica che trovate non nella nostra sola fitness. Il tapirula. La bicicletta. La bicicletta. La recline. La bicicletta orizzontale. Lo step. Il top is T. Dopor la parte superiore. Anche il glider. È un movimento ellittico.